Oggi iniziamo con una carrellata di cose che fanno molto Italia tipo la pizza, le città d'arte, la carbonara, i treni in ritardo e i piccoli trattori cingolati infatti non so se ne arrivate a conoscenza ma in questo settore della meccanizzazione agricola siamo leader mondiali, siamo i più grandi produttori e anche i più grandi consumatori insomma ce la suoniamo e ce la cantiamo Oggi volevo con voi vedere cosa offre il mercato nel settore dei cingolati compatti tra i 75 e i 120 cavalli settore che vede in pratica una lotta a tre tra gruppo CNH, gruppo Agico e gruppo SDF con delle gambe che tra l'altro sono tutte prodotte in Italia e quindi diamo il via a questo triello all'ultimo cingolo I cingolati CNH sono tutti prodotti Aiesi, tutti marchiati New Holland e tutti appartenenti alla serie TK4 che prevede quattro modelli divisi diciamo in due fasce questo perché il TK480 disponendo di soli 75 cavalli riesce a stare sotto al limite per avere delle agevolazioni in fatto di normative antinquinamento e quindi monta solo il DOC e il DPF niente SCR per lui in questo modello il motore è quindi il 4 cilindri FPT F5C da 3.4 litri mentre per i fratelli maggiori si tratta dell'FPT F36 un 3.6 litri sempre 4 cilindri con potenza però questa volta che vanno dai 90 ai 110 cavalli per i motori superiori ai 75 cavalli come vi ho detto le regole sono più ferree e richiedono anche ulteriori sistemi che in casa CNH rispondono al nome di Aiescr2 e Cleanup Catalyst per tutti la trasmissione prevede un cambio a 8 marce avanti e 8 marce indietro con inversore meccanico e super riduttore opzionale le differenze però proseguono infatti se i modelli dal TK490 a salire sono offerti sia in versione di compro normale con larghezza di 140 cm che in versione M da montagna pari centro-basso e quindi con larghezze fino a 160 cm il più piccolo TK480, modello maggiormente dedicato al vigneto presenta ben tre configurazioni distinte dalle tre lettere V, N ed F rispettivamente larghe 115, 130 e 140 cm parlando di cingolature queste sono per tutti disponibili con pattini d'acciaio che vanno dai 25 ai 45 cm di larghezza con 4 o 6 rulli d'appoggio ma per i soliti TK480N e 80F, 110M e 100M sono disponibili anche i cingoli in gomma Smart Trucks che permettono anche di andare su strada per concludere i TK480 sono forniti solo con il telaio di sicurezza pieghevole ROPS mentre i modelli superiori possono equipaggiare di fabbrica una cabina chiusa con apparato di filtrazione ed aria condizionata sul fronte Argo Tractors sono presenti due marchi Landini con le serie Trekker 3 e Trekker 4 e McCormick con la serie XT4 che ricarica la Trekker 4 di Landini ed è peraltro assemblata nel medesimo stabilimento di San Martino in Rio per verità quest'oggi ci concentriamo solo nell'offerta vestita d'azzurro che come succede per New Holland prevede dei mezzi sotto i 75 cavalli cioè il Trekker 3 085 Compact e Compact S trattori che presentano larghezze minime rispettivamente di 125 e 115 cm e un motore 4 cilindri Kohler KDI 2504 4 cilindri 2,5 litri per una potenza massima di 75 cavalli potenza che ritroviamo anche nel minore della gamma Trekker 4 modello 085 presente in configurazione F da 140 cm ed M da 170 cm di larghezza ed equipaggiato con il 4 cilindri 2,9 litri Deutz TCD 2,9 HT gli altri modelli Trekker 4 dal 0,95 al 120 sono sempre declinati nella doppia versione F ed M e montano il medesimo motore ma in versione HP questo è dovuto alla potenza superiore che richiede il sistema SCR oltre ovviamente ai dispositivi DOC e DPF che sono presenti anche nella parte bassa della gamma la trasmissione è per tutti la Speed 4 con 4 marce e 2 gamme opzionali sono l'overdrive per raggiungere velocità fino a 15 km orari e il super riduttore che porta i rapporti a 16 più 8 i carri del Trekker 3 sono lunghi 135 cm e presentano 3 rulli d'appoggio mentre passando ai Trekker 4 i carri diventano da 165 cm e richiedono 5 rulli i pattini d'acciaio anche qui vanno da 25 a 45 cm di larghezza e i soli Trekker 4 possono montare dei tappi in gomma da 40 cm come i soli Trekker 4 possono montare una cabina con filtrazione a richiesta di categoria 2 o 4 per i Trekker 3 quindi solo cingoli in acciaio e solo arco di protezione certificato ROPS concludiamo la disamina di oggi con la produzione SDF made in Treviglio che presenta anche in questo caso due diverse gamme e cioè la Samme Krypton e la Deutzfar 5K che corrispondono tra l'altro in tutti i loro modelli ma se due sono le gamme tre sono le colorazioni infatti oltre al rosso e al verde è presente anche la Deutzfar Lamborghini Edition che veste uno smoking elegante bianco e nero anche qui per brevità e senso di italianità andiamo a analizzare solo la serie Samme Krypton tenendo a mente che poi anche l'offerta Deutzfar ricalca gli stessi modelli la gamma parte sempre da un modello sotto i 75 cavalli in questo caso è il Krypton F75 spinto dal tre cilindri Farmotion 35 da 2.9 litri che presenta solo il DOC e il DPF e poi procede nei modelli superiori M105 ed M115 mossi dal quattro cilindri sempre Farmotion ma questa volta versione 45 con potenze di 106 e 116 cavalli dotato ovviamente del sistema SCR la trasmissione è per tutti la stessa ma configurabile con diversi numeri di marce possono essere 12 più 12 o 16 più 16 a seconda dell'implementazione del super riduttore e dell'overdrive che portano il range dai 400 metri ora ai 12 km orari le larghezze minime partono dai 136 cm dell'F75 ed aumentano poi mano a mano che si progredisce con la gamma come aumenta anche l'interasse che passa da 5 a 6 rulli centrali che possono portare anche la cingolatura in gomma Comfort Track nessuno dei modelli in oggetto esce dalla fabbrica con già la cabina montata che può essere richiesta nel mercato secondario da preparatori specializzati dalla fabbrica di Treviglio escono solo archi di protezione ripiegabili a due montanti o fissi a quattro montanti tutti e due ovviamente certificati ROPS e voi mi raccomando che non sia questo l'ultimo video che vedete di questo canale anzi iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle notizie in campo agricolo ed agromeccanico sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti di questo video assieme all'articolo completo e anche ai vari social della revista tra cui l'importantissimo sito Trattori Web nel quale potete accedere per rimanere sempre sul pezzo noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo contenuto giornalmente su Instagram e sul sito ciao